Buongiorno e ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è sabato 21 settembre e vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dall'home page del quotidiano online in forma Molise. Vediamo insieme. Patto di sicurezza Cristiano Di Pietro sollecita l'accelerazione dell'iter procedurale e poi ancora Servizi per il lavoro, nuova programmazione, un binomio da valorizzare e su cui puntare. Leva la riforma della giustizia del PDL al sapore della ritorsione. E ancora Mr. Green contro Big Gino. Chi vincerà la sfida? Il Movimento 5 Stelle torna in piazza. Microcredito europeo, 2 milioni di euro per il Molise a favore dei giovani disoccupati e cassa integrati. E in ultimo Piazza Pepe resta chiusa al traffico. Il Tarra rigetta la sospensiva chiesta dai commercianti. Passiamo adesso alla lettura dei nostri quotidiani. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con Roma cancella la Termoli San Vittore. Il governo nazionale ha dirottato le risorse per il primo lotto sulla Telesina. La decisione è riportata sul supplemento della gazzetta ufficiale anche se i fondi erano già stati stanziati dal Cipe. Chiude la scuola dei ladri. In 13 finiscono in galera. Hanno colpito anche Campobasso. La banda istruiva i propri affiliati all'arte del furto con scasso. Avevano le spalle coperte, disponevano di soldi e mezzi da utilizzare per lavorare e addirittura si erano assicurati la tutela legale. Parliamo dei ladri di professione. La maggior parte georgiani arrestati ieri all'alba dalla Polizia di Stato nel corso di un'operazione congiunta. Si tratta di una banda di esperti che addestrava i suoi affiliati all'arte dello scasso come in una vera e propria scuola. A capo c'era una donna napoletana. La banda aveva razziato anche appartamenti a Campobasso. Vendetta al topo morto per punire il nemico atti alla procura di Campobasso. L'episodio è avvenuto a Chieti ma per competenza gli atti passano alla procura di Campobasso perché l'indagato è il marito di un giudice di pace che ha appeso topi morti sull'auto di un consigliere comunale. E ancora giuramento Polizia di Stato congedato il 186esimo corso istituto di formazione Rivera. Nonostante il meteo ce l'avesse messa tutta per impedire il cerimoniale, ieri si è tenuto il giuramento dei 180 agenti in prova della Polizia di Stato. Pollice verde per coltivare un cespuglio di marijuana arrestato molisano processato a Chieti. Sanità frattura dichiara guerra basso rispediamo il piano al mittente. Il governatore delinea i futuri assetti troppi doppioni nel Molise centrale. Colpo di scena nell'incontro pubblico organizzato dal Comitato Santimotio, il governatore commissario Paolo Frattura ha annunciato il piano basso lo rispediamo al mittente perché le decisioni vanno prese coinvolgendo i territori. E ancora da termoli comune, Verini si dimette da sessore e attacca, così si paralizza la città. Per quanto riguarda lo sport, serie di a riattesa a Boiano, salta la rifinitura pre-matelica eccellenza tra anticipi, la Virtus Pozzili attende la cliternina. Promozione Campo di Petra in trasferta a Termoli serve l'impresa. Motori, rally di San Giuliano stamattina in programma, le verifiche. E per il quotidiano del Molise controlliamo le pagine centrali. L'Unione Europea punta sulle imprese molisane. 2 milioni di euro per favorire la nascita di 209 aziende. Il FEI ha selezionato la FIM Molise per attivare lo Startup in Progress. L'assessore Scarabeo, opportunità per giovani e disoccupati. Anci, Fanelli, migliorare e uso dei fondi europei. E ancora taglio dei tribunali sindacati. E a rischio la democrazia. Manifestazione a Campobasso di CGL, CISL e UIL. Patto di sicurezza di Petro sollecita utilizzare le risorse. Ancora marcia della pace. Domani la manifestazione per dire no alle guerre. Termoli San Vittore, fondi dirottati sulla Telesina, sulla Gazzetta Ufficiale, l'ennesimo scippo compiuto ai danni del Molise. Sono pronto a far valere le mie ragioni, Ulisse di Giacomo si prepara l'udienza pubblica del 4 ottobre. Imbarazzi con Berlusconi e nel mio pieno diritto difendere gli interessi miei e della Regione. Leva responsabilità per scongiurare l'aumento dell'IVA all'onorevole ospite ad Omnibus. Piano Casa, Nagni, pronta una proroga per sostenere l'edilizia, si pensa alla proposta di legge. E ancora giustizia giusta nel fine settimana in piazza e gazebo del PDL per la raccolta firme. Passiamo adesso a primo piano Molise che titola con frattura, dice basta la sanità degli imboscati. A Termoli il Presidente porta le prove. Su 3.250 dipendenti, 640 sono inabili. Il Molise paga pure lo scotto della rottamazione costata 12 milioni. Il piano basso proposta irricevibile. Una sanità che funziona male non solo perché si sono accumulati i debiti in questi anni. A Termoli, dove arriva per illustrare al Comitato gli obiettivi del riordino, il Governatore tuona non possiamo più permetterci doppioni o triploni. Poi sottolinea lo scotto pagato con gli incentivi alla rottamazione costati 12 milioni di euro che hanno determinato 36 primariati vacanti. Ma il vero dilemma è la forza lavoro. 640 dipendenti della sanità pubblica molisana su 3.250 sono inabili certificati. E ancora, il Governo Letta cancella la Termoli San Vittore. Il Consiglio dei Ministri ha dirottato le risorse sulla Cajanello Benevento. La notizia è di quelle destinate a far discutere a lungo. Il Governo Letta ha dirottato i soldi stanziati per il primo lotto della Termoli San Vittore su un'altra opera viaria. La Cajanello Benevento, meglio conosciuta come Statale Telesina, la decisione è tra quelle assunte col decreto del fare. E poi ancora, Impresa e Sociale Startup Progress, il microcredito che premia idee e coraggio, illustrata l'iniziativa finanziata dalla Regione. E ancora fu un IVSPA l'impegno di Scarabeo Carrozzone da eliminare quanto prima. L'assessore ha incontrato i sindaci Monaco, Sciulli e Manfredi Selvaggi, il futuro della montagna. E poi ancora Isernia, l'ultimo saluto a Edilio Petrocelli, politico d'altri tempi, centinaia di persone e funerali dell'ex deputato del PC. E poi Campobasso, furti a raffica, arrestati 13 topi di appartamento, avevano seminato il panico anche nel capoluogo. Polizia, la pioggia, non rovina il giuramento degli allievi, in 180 hanno promesso fedeltà alla Repubblica. E ancora Campobasso, con la Giovanni, lascia il PDL e forma il Movimento dei Moderati, strategie a meno di un anno dal voto. Una notizia dall'Abruzzo, da Acupello, lutto cittadino in paese per l'operario schiacciato da un palo a Montenero, rifondazione, non si può morire di lavoro. Per quanto riguarda lo sport Serie D, Boiano, atleti in protesta diserteranno la rifinitura per il mancato pagamento degli emolumenti. Serie D, Isernia contro il Fano, chance per il tecnico Scagliarini. Ancora eccellenza, Pozziglia e Cliternina per lasciare quota zero, il sesto ospita la Dauna. Anche per primo piano controlliamo la seconda e la terza pagina. I soldi della Termoli San Vittore finiscono sulla statale Telesina, lo ha deciso Palazzo Chigi con il decreto del fare. Le risorse deliberate dal Cipe dirottate altrove nel silenzio della politica locale. Nodo giustizia leva la riforma che propone il PDL al sapore della ritorsione, ma il sottosegretario rilancia, da questa dipendono democrazia e competitività. Il PD guadagna due punti e sorpassa il partito del Cavaliere, cala anche il Movimento 5 Stelle. E poi, patto di sicurezza Cristiano Di Petro ci riprova, bisogna utilizzare i fondi ancora a disposizione. Piano Casa, l'assessore Nani pensa ad una proroga. Start-up, il microcredito che concilia impresa e sociale. Fe e Regione insieme per finanziare le buone idee dei piccoli. Il presidente Frattura pree una stagione di aiuti che guarda le persone in difficoltà e mette a disposizione 2 milioni di euro. Fronte comune con i sindaci, Scarabeo insiste, funivi S.P.A. un carrozzone da dismettere subito, vertice con gli amministratori di Capracotta, San Massimo e Pesco Pennataro. Il punto sulle novità del DURC, incontro soddisfacente all'ACEM, presenti IMS, INAIL ed Edilcassa. Il cordoglio, la politica e l'università ricordano Petrocelli, uno dei padri nobili del Molise. Passiamo adesso ai fatti del nuovo Molise. ITR, i sindacati, noi taglio barricate. CISL, Will e UGL entrincia i terzisti a bianchi, paghi subito. Gli animalisti alle mogli dei cacciatori non fate più sesso con i vostri mariti, la provocazione. E poi, in evidenza, Arsenale nell'abitazione, pregiudicato, torna in carcere. Da Larino, Sanità allo sbando, la camera iperbarica del Vietri è a rischio. In cronaca, furti in casa, sgominata la banda dei georgiani. E dall'Abruzzo apre a Celenza il primo asilo nido dell'Alto Vastese. Anche per i fatti controlliamo le pagine interne. Taglia la pubblica amministrazione, attacco alla democrazia. Emilio Izzo della Will puntare su migliori servizi per il cittadino, attaccare i privilegi della casta, i sindacati contro la chiusura del Tribunale a Termoli e dell'Agenzia delle Entrate di Larino. Piano casa verso la proroga, l'assessore Nagni puntiamo al rilancio dell'economia. I giovani della Coldiretti puntano sull'agricoltura, riunione dell'Assemblea regionale e dell'Associazione. Donatella Grosso, appello alla vita indiretta. La famiglia della trentenne scomparsa nel 1996, originale di Campobasso, si oppone ancora all'archiviazione. Centri per l'impiego, l'impegno di Petraroia per i precari. Dal 1 gennaio 40 contratti a termini scadenza l'idea è di farli assorbire dalla regione. Videosorveglianza di Pietro Junior deve partire subito. La metà dei fondi per il patto della sicurezza stornati sulla sanità. Ora pensare alle aree sensibili. Start-up in progress, tante novità in arrivo. E ancora unimo l'immatricolazione e iscrizioni prorogate al 15 ottobre. E adesso vediamo la prima pagina della Gazzetta del Molise. Vediamo che in prima pagina c'è l'assessore Facciolla, sputa nel piatto dove mangia. L'Oscar del giorno è affidato a Giovanni Cannata, mentre il tapiro del giorno a Salvatore Di Pardo. Regione Lunimol proroga ad ottobre le iscrizioni, economia, centri per l'impiego, soluzioni per non chiuderli. Campobasso, il comune alla SEAC deve un milione e mezzo di euro. E continuiamo a leggere il tempo. La sezione relativa al Molise, lavoro, futuro assicurato solo ai pornoattori. Possibilità di impiego anche per ballerine di lapdance e agenti di commercio. Sul web gli annunci per reclutare il personale, offerti i contratti a tempo indeterminato. E poi Campobasso, due milioni per finanziare le idee dei giovani. Ancora da Campobasso prestano giuramento alla patria e i carabinieri appena promossi. I Serni e TR si spacca il fronte sindacale. CGL, Cisle e Will bacchettano la CGL che ha incontrato da sola il patron Bianchi. Passiamo adesso al Corriere della Sera, quindi alla stampa nazionale. Muro contro l'aumento IVA. Letta al Quirinale, non ho intenzione di farmi logorare. Epifani, non bisogna alzare l'aliquota. A congresso del PD l'8 dicembre, irritazione di Renzi. E poi ancora Berlusconi studia, il sindaco di Firenze non reggerà. E ancora le fotobuffe, poi il pisolino della cognata e tutto finisce in rete. L'insostenibile leggerezza di Cameron, il normale. TAV, lo Stato blinda, la Val di Susa minacce dalle nuove BR. Alfano invia 200 soldati, non ci fermiamo. E poi ancora Francesco, i miei dubbi e le mie certezze. L'intervista a Civiltà Cattolica svela la personalità spiazzante del Papa. Ricerche dagli Stati Uniti, siete stressati, riuscirete a vivere più a lungo. E poi ancora, missione falita su Marte, le tracce di vita non si trovano. Passiamo adesso al Messaggero di Roma. Il Tesoro serve una manovra via Libera al Def, peggiora il PIL e interventi correttivi per portare il deficit sotto il 3%. Scontro sull'aumento dell'IVA spunta il rinvio a novembre per riscrivere le aliquote. Il Colle toghe più coraggio sulle riforme, quel senso dei limiti da recuperare subito. Ancora TAV, il governo invia altri 200 soldati, minaccia nuove BR. Il documento eversivo scritto dal carcere ora serve un salto di qualità nella lotta. Val di Susa, linea dura del Viminale, Alfano e Bombaroli si rassegnino, cambia anche il prefetto. Totti, Roma per tutta la vita, il mio unico grande amore. Passiamo adesso al Tempo. Scorte con auto nuove, volanti da rottamare. Vippo da proteggere per le esigenze dei potenti. Si usano macchine extralusso e commissariati della capitale costretti a usare vetture vecchie e inadeguate. Editoriali meno blindate e tagli sensati. Gratis immobili del Campidoglio alle caserme, intervista al sindaco Marino, così voglio cambiare Roma. E poi ancora avanti col governo, ma Letta sale al Quirinale, non mi farò logurare. Il giorno dell'Immacolata e delle primarie PD, Epifani svela la data, l'8 dicembre. E ancora le nuove BR ai Notav, fate un passo avanti, Alfano invia 200 militari. Passiamo adesso alla stampa, ancora Letta al Colle, avanti deciso, deficit al 3,1% per colpa dell'instabilità. Saccomani, niente manovre sciocche. Il Premier non mi farò logurare. Napolitano basta conflitti, politica giustizia sull'economia. Il PDL chiede una cabina di regia. E ancora minaccia eversione, Alfano manda 200 uomini in Val Susa, le nuove BR ai Notav, fate un passo avanti. Il Ministro dell'Interno e Bombaroli si rassegnino. E poi ancora il camminare insieme del Papa, scie chimiche, quando la bufala diventa tabù, insulti, offesi a chi smonta scientificamente credenze diffuse su internet. E poi passiamo alla lettura di Libero. Letta sbaglia i conti, governo in bolletta, deficit, PIL, oltre il 3%, il Premier fa un buco di 3 miliardi in 4 mesi, in colpa all'instabilità politica. Ma è una balla per Iocondor. La verità è che le coperture dei provvedimenti presi erano fasulle. E poi 5 milioni in due anni, caso Crozza, in interrogazione di Brunetta. Napolitano fuori tempo, la stalla chiusa dopo le toghe sono scappate. Doppio abominio, la casta si esenta dall'assurdo reato di omofobia. Che errore pensare che il Papa rinneghi valori, che interpreta Francesco. E poi il Cavaliere palla al piede del centro-destra, botta e risposta. Ma che senza di lui scomparirebbe? BR con in ottava, Alfano manda i soldati terroristi, vogliono il salto di qualità in Val di Susa. Passiamo adesso all'informazione economica. Leggiamo il Sole 24 ore. Deficit al 3,1% manovra a fine anno. Letta da Napolitano. Pesa l'instabilità politica, ma non mi lascerò allugorare le stime del governo. Saccomani entro il 2017 spreda 100 punti. Pareggio di bilancio nel 2015. Pressing PD-PDL sullo stop all'IVA. E ancora hanno TAV 200 agenti in più a Chiomonte. Le BR cercano proseliti. Alfano si farà e Bombaroli si rassegnino. E ancora Telefonica prepara l'offerta ai soci Telco. Telcom cade in borsa entro la metà della prossima settimana. E ancora l'Italia Air France pronta a risalire al 50%. E TIAD si sfila dalla gara alla richiesta dei francesi, debito ristrutturato. Passiamo adesso allo sport. Leggiamo la gazzetta dello sport. Garanzia Moratti tutela dei tifosi. Gli indonesiani si dimostrano affidabili, ma se le cose dovessero andare storte, il presidente si è assicurato per contratto il diritto di riacquistare la società. Conti in ordine. Toerra e i suoi soci verseranno 250 milioni. Solo 50 andranno a Moratti. Gli altri 200 ripianeranno i debiti e aumenteranno il capitale. Così il club potrà ripartire e svilupparsi. Tutti in retroscena della cessione a toglier sorpresa. L'Inter è ripulita, non avrà più debiti. E ancora Balotelli sfida un tabù. Sempre K.O. col Napoli. Tre gare e tre sconfitte. Mai però con la maglia del Milan. Nezzapata avverte attenti per lo scudetto. Noi ci siamo. C'è la cura antistress della terapia Benitez. Giornata di libertà a 48 ore dalla gara con i rossoneri. Lavoro mattutino e tanto pallone. La rivoluzione è servita. Fiducia a Conte. Segna Tevez. La Juve vince. Poi Totti rinnova. Lo meritava pure del Piero. Tre anticipi. Genoa sprint. Per Spinelli. Brivido Samp. Serie B. Un autogol. Il Parlermo cade. Gattuso. Adesso sono guai. Eurobasket. Oggi la sfida decisiva. Italia stanca. Ciao Ucraina. Ora la Serbia per il Mondiale. Formula 1 dall'Inghilterra. Una voce per il 2015. McLaren Honda con Alonso. Fernando. Resto in Ferrari. Eurovolley. Azzurri. Buona la prima. Battuta la Danimarca per 3 a 0. Golf. Molina riscatta. In testa con Paratore. Baby Boom. In luce. In l'Ind Open d'Italia. Passiamo adesso al Corriere dello Sport. Iguain. Imeino al Milan. Nel centroavanti del Napoli. Racconta i suoi rifiuti rossoneri. Avversari domani. Montari ad Amsic. Ti fermo. La firma di Totti. Roma. Vita mia. Due anni di contratto. Un'apertura a Prandelli per i mondiali. Dipenderà come arrivo a maggio. Con il fisico e con la testa. Ecco l'Inter di Toirre. Nel Mirino. L'Angolan e Leonardo. Rinnovamento graduale. Alleanza con il Milan per San Siro. Il modello inglese per il Vivaio. Conte nei piani dell'Arsenal Juve. Spiazzata. E poi B. Palermo. K.O. Con lo Spezia. Gattuso. Rischia la panchina. E ancora. Novità più vicina. Ultima parola. Blatter. Addio. Estati mondiali. In Qatar si gioca. D'inverno. L'UFA dice sì. Arriba al tono. Nel 2022. E in ultimo Formula 1 a Singapore. Oggi Pola. Alonso nel 2015. La McLaren non smentisce. E questo era l'ultimo quotidiano. Io vi lascio alle previsioni del tempo. E vi ricordo l'informazione di Molise TV. alle 13 e 50 con il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buona giornata. in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per sabato 21 settembre 2013. Pressione in aumento e tempo stabile su Molise, Basilicata e Puglia. Attesa una giornata all'insegna del bel tempo prevalente, salvo blanki addensamenti a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni o un lieve aumento nei massimi. Venti deboli o moderati da nord-ovest in intensificazione la sera. Mari generalmente poco mossi ma con moto ondoso in aumento. Vediamo le temperature. Campobasso minima 12, massima 23 gradi. Isernia minima 13, massima 23 gradi. Termoli minima 18, massima 23 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Il meteo è stato offerto da